Salve a tutti ragazzi bentornati nella QBlock Oggi siamo qua insieme perché dobbiamo giocare Sta diventando notte di nuovo Andiamo a dormire Non posso ancora dormire perché Allora fammi usci dalla porta prima di tutto Allora il sole sta tramontando Quindi è notte giusto? Se il sole tramonta è notte quindi dormiamo Perché non è notte? Svegli ti tramontare te Ok finalmente un nuovo giorno Oggi dobbiamo riuscire prima di tutto A trasformare il nostro villager Che abbiamo lì sotto in un maestro di libri Fantastici che ci dovrà dare Dei libri ovviamente incredibili Vediamo Salve ma tu chi sei? Un nuovo amico? Ti sei fatto un amico? Come state? Ma tu è un diamante? 3 smeraldi? Dammi tutti i smeraldi che hai 12 libri e uno smeraldo Forse sei un po' caro per i miei gusti Allora cos'è che ci chiedeva? Un libro scritto Allora se è un libro scritto E devo scriverlo io Quindi mi serve in teoria una piuma E dell'inchiostro Squid dove siete? Devo uccidere tutti Squid? Squid? Questo è un lago fiume Non ci sono squid? Andiamo di qua Da questa parte del mondo Tanto dammi le tue piume Mi ha metto solo la piuma Fa schifo pollo Aiuto Che è successo? Sto affogando Dove sono finito? Perché sto affogando? Fammi tornare su Come ho fatto a finire di qua? Siamo dall'altra parte scusate Ma come sono accorto? Torniamo dall'altra parte del mondo Il giro del mondo abbiamo fatto ragazzi Allora devo trovare delle squid Qua non penso ci siano squid Sento scheletri, cose C'è anche una mucca Squid? Dove sono gli squid in questo posto? Non ci sono squid? Dove? Cosa sta succedendo? Mi si è baggato tutto il mondo Aiuto paura Questo mondo è spaventoso L'ho sempre detto io Non volevo giocarci io Questa è la caverna del male Guardate cosa c'è Vabbè Ancora che fanno un break dance questi Li piace ballare? Non ho capito Perché andiamo in una giungla? No sbaglio Piano Calmati Allora Salto lungo Perfetto Giustissimo È un po' complicato fare il giro del mondo Dovete capirmi C'è La gravità è molto complicata da capire E anche da mettere in pratica Torniamo alla base principale magari Delle squid Sto chiedendo Non chiedo tanto io Dove sono i squid? Perché non spawnono squid? Non è che quando spawnono Cadono fuori dal mondo Da questa parte? Non vorrei che È colpa mia Non ho fatto nulla di male Volevo solamente qualche squid Ok sono rimasto un po' fk Finalmente sono spawn Ce n'è ancora una salva L'altra è morta Ok l'inchiostro Ho l'inchiostro Finalmente Da qualche parte Si deve avere delle piume Polli Mi servono altri polli Ma davvero I polli che ho ucciso Non mi hanno dato nessuna piuma? Ci saranno Altri polli Da qualche parte Non è che le uccise tutti Spor di no Devo fare delle farm Io di polli in futuro Non è che vado avanti A carne Che già sta finendo questa carne Devo esplorare il mondo Sei biomi In un solo cubo di minecraft Li esploreremo tutti Alla ricerca Di un pollo Allora nella giungla Io non penso Spogni qualche pollo C'è solamente una pecora E tante liane Messe un po' male Diciamo Cambiamo bioma Dobbiamo andare Nella neve Qua dappertutto Vediamo cosa c'è qua Un blocco di cuole Quello potrebbe servirmi Rompiamo tutto Grazie mille Qua perché c'è della ghiaia? Mi sta trollando Non c'è nulla di interessante Guardate che bello Il mio milo Quanto è storto Mamma mia Intanto prendiamo questo Che potrebbe essere utile Come cibo Che se finiamo la carne Siamo fregati Quindi è meglio prendere Tutto quello che troviamo Qua ci sono delle mucche Un giorno riusciremo Ad arrivare anche In quelle isole Così lontane In quei cubi lontani Anche qua il cubo Chissà cosa ci sarà Sempre più biomi Sempre più cose da scoprire Sarà bellissimo Da che parto andiamo adesso? Cosa c'è di qua? Di qua c'è il sottosopra Mentre cadono squid Questa è la serie Dove cadono squid Non è la cube block È la serie Dove cadono squid Dal mondo Andiamo di qua Questa è la parte principale Non ci sono polli Aspettiamo che sponi Qualche pollo Cioè Spero che sponi almeno Io non trovo polli Non sono sponando Dove essere una parte Mi serve un pollo Almeno uno Ti chiedo mondo Ecco pollo Ma perché sponi sempre qua Che fai bagno Vieni qua Dammi Mi hai dato la piuma Mi hai dato la piuma Ma stai mostrando Che non mi hai dato la piuma Ma esistono le piume In questa versione Almeno Perché è una versione Vecchia di minecraft Non è colpa mia Non ci sono altre polle Non mi hai dato Pollo Ero tutto il tempo Mi hai dato la piuma Mi hai dato la piuma Se Dimmi che si fa così Ok Allora Book and Quiles Devo scriverlo in teoria Faccio così Come se Sing Loco 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 Sing è close Questo libro scritto By Loco Loco Devo darlo al mio amico Villager in teoria Vediamo se funziona Vediamo al nostro amico Villager Villager dove sei finito Mi serve l'armatone Diamante che ci dà L'altro tizzo Il tuo amicone Il miglior amico Che hai trovato oggi Allora scendiamo giù Vediamo se Ci scambia questo libro Spero funzioni almeno Salve No Non questo Entriamo Salve a tutti Permesso Grazie Allora se io ti do Questo libro Tu mi dai uno smeraldo Perfetto Adesso Aumenta il tuo lavoro È aumentato? Vediamo se è aumentato Non è aumentato Vabbè aspettiamo che aumenti Perché se non aumenti È un problema È aumentato? Non è aumentato Prendiamo un po' di vetro Il vetro potrebbe servirci Vediamo se aumenti Dimmi che aumenti Per favore Non ci voglio cercare Altri più Altri più Ti prego Aumentato? Non è aumentato Ti servono altri biscritti Andiamo a cercare Non voglio più cercare piume Finalmente ho ottenuto Altri tre piume Entriamo Aspetta L'inchiostro Ho dimenticato L'inchiostro Ti prego dimmi Che c'è un altro squid qua Qua c'è l'esperienza di prima Inchiostro Polipi Squid Non ci sono squid Aspettiamo Devo aspettare Quanto devo aspettare In questo mondo Io Allora Ho tre piume Sette di inchiostro E tanti libri Quindi Se io adesso Li unisco Solamente uno Le faccio Piuma Ok Scrivo un libro Ciao Sono Bellissimo Bellissimo Perfetto Lo segno come Nico Trattino basso 3004 Segnato Io vado qua Da mio bellissimo amico Gli do il libro E lui Mi dà uno smeraldo Ok Hai capito Perfetto Però devi aumentare Di là Il tuo livello Deve aumentare Non è che questo È il livello massimo Non vorrei che fosse Il livello massimo Che è orribile Questo villager Ti prego Non fammi scrivere Altri libri Ok Scrivo altri libri Vediamo Se aumenta Di livello Brief Prendi questo Ok E prendi anche questo Perfetto Se adesso Non aumenti Di lavoro Ti ho dato 4 libri Scritti Aumenta Tipo dimmi Che sei aumentato Perché non aumenta Ti prego Aumenta Perfavore Non ti sopporto più Cosa devo fare Della mia vita Per far aumentare Di livello Non dimmi Che è il massimo Ma davvero Così schifo Come villager Il tuo amico Al primo livello È 20.000 volte Meglio di te Fai schifo te Vengono Vergognati Adesso me ne vado Aspetta ma Cos'è sto cosa Lasciamola qui Non voglio sapere Cosa Non ho visto niente Ci vediamo dopo Ragazzi Secondo me il villager Non ci ha portato Fortuna per niente Perché Sono rimasto molto deluso Da quel villager Pensavo fosse molto meglio Voglio fare La mia prima Diciamo farm Non è una farm Perché no Non è una farm Voglio fare un cobblestone generator Che è una farm di cobblestone Però non è una farm Capitemi Non è una farm Quindi mi sono fatto un secchio Prima di tutto Bisogna prendere l'acqua E poi devo prendere la lava Però io la lava Dov'è che la prendo? E soprattutto Dove faccio il cobblestone generator Magari dove non prende fuoco il mondo? Potrei farlo Sulla sabbia Forse no Mettiamolo qua Esattamente qua Quindi Si fa così Allora qua Ci andrà l'acqua Poi qui Dobbiamo fare un buchettino Qua romperemo tutto E qua ci va la lava Perfetto Allora quindi qua Acqua Perfetto E qua Noi romperemo la cobblestone Che ci sarà Però io la lava Dov'è che posso trovarla? Dov'è la lava in questo mondo? Non so se l'ho mai vista la lava io in questo mondo Devo andare in caverna Devo andare per forza in caverna E mi sa di sì Allora piano Andiamo in caverna Un attimo Dimmi che c'è da qualche parte Della No 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 Non c'è lava Ci sono mostri incredibili Allora E cosa faccio? Scaviamo Dov'è un pochettino Salve Buongiorno Come state? Forse è meglio Andarsene via da questo posto Non siamo ancora preparati Un'altra caverna da cercare Forse molto meglio di questa Andiamo in una parte innevata Che forse avevo visto qualcosa di più Non mortale Diciamo Non mortale Vediamo Troviamo qualcosa In tutti c'era una caverna Eccola Quella cavernita Cavernita Ok qua c'è un creeper Anziché 18 Anche se c'è un solo creeper Sono quasi morto lo stesso Quindi piano Ma perché quanta gente c'è? Morite tutti No non esplodere Oh la la lava Hai perduto la lava Prendi la lava Rompi questo blocco Aspetta la lava Dammi tutta la lava che c'è Dov'è che c'è la lava Voglio la lava Devo scavare Per prendere la lava Ok E qua in teoria No ancora più di là Mannaggia Io come arrivo lì Salve buongiorno Devo solamente prendere della lava Non so però Non so come arrivarci Guarda quanto ferro Vediamolo con calma Si imbutto qua Ok Sono in un posto un po' pericoloso La lava è questa Ho preso la lava Perfetto E questo posto dov'è che mi porta? Mamma mia Prendiamo anche i smeraldi Così possiamo farci l'armatura in diamante Con questi smeraldi Mi sarebbero un 13 smeraldi Smeraldi dove siete? Allora non vorrei bugarmi Oh lo smeraldo mio Dammi lo smeraldo Ok 5 smeraldi abbiamo Altre smeraldi non ce ne sono Intanto c'è gente che muore Posso passare? Grazie allora Dove è che si esce da questo posto? Diamanti Ho trovato i diamanti raga Ho trovato i diamanti È il mio primo diamante Se ho No ho buttato il piccone Grazie salve Ho trovato il mio primo diamante Finalmente Che bello Non so neanche dove sono finito Però sono troppo contento di questa cosa Salve buongiorno No 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 Ok Non è che c'era l'acqua Devo andarmene via da questo posto Però non mi ricordo dove è l'uscita Non esplodere Esploso? Allora sì io salgo di qua Ok ok No 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 Fermo fermo Raddrizzati perfetto No raddrizzati ho detto Ok sono dritto Dovrebbe esserci l'uscita da qualche parte di qua No 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 fermo fermo Dove sono finito io? Buongiorno Ma sì io scavo verso l'alto Non vorrei Allora io vado verso l'alto Qui non siamo Siamo al livello 73 Penso di essere abbastanza in alto Io ho paura Perché ho fatto uno screenshot Sbagliato Dovevo prendere il piccone Ok Saliamo Saliamo Ok la terra La terra Vedo la terra Terra quella salvezza Terra quella salvezza Prendiamo in mano la terra Rompi tutto Sali Ok abbiamo trovato l'uscita Finalmente Vediamo dove siamo Ah buongiorno Buongiorno Salve Salve come state Tutto bene Vediamo ti prego Cobblestone generito ho fatto Mi metto qua per 20 euro A scavare carobbe Sono fighello Non ho 20.000 Finalmente Stavo qua notti E giorni E giorni E notti Ragazzi Io vi saluto Ci vediamo con un prossimo video Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi Seguitemi anche su Instagram Ci vediamo con un prossimo video Ciao a tutti